Grazie Presidente. L'integrazione della Bosnia e di tutti i Balcani occidentali è sicuramente una necessità storica per l'Unione Europea. Però diceva bene prima il relatore, il collega Preda, che ringrazio per il lavoro svolto, bisogna rimettere la Bosnia sul cammino dell'UE, ma soprattutto bisogna che la Bosnia voglia concretamente rimettersi di sua spontanea volontà e con sincera volontà. I problemi politici, amministrativi e giudiziari sono ancora enormi. Il sistema amministrativo è frammentato, il giudiziario ancora non è capace di fare una vera e propria lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione che colpisce l'intero settore pubblico e l'accesso anche al pubblico impiego e ai servizi. Io purtroppo devo restare del parere che la struttura stessa costituzionale dello Stato sia ancora tutt'oggi un problema ineludibile ed è un problema che senz'altro dovranno affrontare tutti i cittadini bosniaci in primo luogo. Certo, i segnali, la protesta dell'anno scorso, ma gli attentati brutali di oggi restano dei segnali molto forzi da non sottovalutare e condanniamo anche la recente nuova legge sull'ordine della pace pubblica che sembra attentare fortemente alla libertà dei social network.